allora buongiorno benvenuti al nostro ultimo seminario preparatorio al convegno del ventisei e ventisette marzo duemilaventidue intitolato Joyce e Nora una vera coppia un convegno organizzato da Aliparigi e Aliroma e dedicato all'epistolario erotico amoroso eh tra il grande scrittore irlandese e la donna che ha amato al di sovra di e Nora a cui appunto dedichiamo questa nostra mattinata e a parlarcene saranno Enrico Terrinoni che aprirà i lavori e Angela Gesù non c'è audio l'illan buongiorno e benvenuti al nostro dernier seminario preparazione au rencontre du ventisette e du ventisì marzo duemilaventidue intitolato Joyce e Nora un vrai couple rencontre organisé par l'Ali Roma straordinario di letteratura inglese all'università per stranieri di Perugia collabora con il manifesto left il venerdì ma suoi contributi sono apparsi anche su alcune delle altre maggiori testate giornalistiche italiane come il Corriere della Sera, il Sole ventiquattro ore, la stampa, il messaggero ha pubblicato numerosi libri ne ricordo ovviamente solo alcuni ehm chi ha paura dei classici oltre abita il silenzio a tradurre la letteratura, Jamie Joyce, la fine del romanzo e poi ha pubblicato numerosi articoli, saggi, recensioni oltre alle trante traduzioni dall'inglese di autori contemporanei ma il nome di Terrinoni si lega in modo particolare alle traduzioni dell'Ulisse di Finigan's Wake di Jamie Joyce. Dobbiamo a lui infatti la prima edizione al mondo della traduzione dell'Ulisse contesto a fronte, edito appunto da Bonpiani nel duemilaventuno e poi in uscita se non è addirittura già uscito insomma in questi giorni per Feltrinelli il suo su tutti i vivi e i morti Joyce a Roma. Segnalo anche il prezioso saggio dello scrivere epifanico che accompagna una nuova edizione dell'Epifanie di Joyce edita nel duemilaventuno per racconti edizioni. Enrico Terrinoni è professeur di letteratura anglaise all'Università per gli Etrangeri di Perù. Il collabora notamment a Il Manifesto, a Left e a Il Venerdì della Repubblica. E ses contributions figurent aussi dans d'autres titri majeurs della presse italiana come Le Corriere della Sera, Il sole ventiquattro ore, La stampa e Il messaggero. Il a pubblicato de nombreux livres, de nombreux articles, des essais et des critiques dont je ne peux absolument pas tout citer, évidemment. Je noterai par exemple James Joyce, la fin du roman. Mais le nom de Terrinoni est lié particulièrement aux traductions d'Ulysse et de Finnegan's Wake, de Joyce. Nous lui devons la toute première édition au monde de la traduction d'Ulysse avec le texte originel qui lui fait face. Donc chez Bompiani, en 2021. Doit paraître chez Feltrinelli son ouvrage sur tous les vivants et les morts Joyce à Rome. Et je signale également le précieux essai à propos de l'écriture épiphanique qui accompagne une nouvelle édition des Epiphanies de Joyce aux éditions racontées en 2021. Angela Gesuino invece psicologa clinica e psicanalista. È stata presidente dell'Association Lacanienne Internationale ed è attualmente membro del bureau e del direttorio. È autrice di un saggio bellissimo pubblicato nel volume Il sapere che viene dai folli, un caso clinico dai toni a tratti molto poetici. Si è a lungo dedicata a Joyce e a Nora con la finezza clinica che la contraddistingue, perciò ci siamo rivolti a lei chiedendole di portarci dentro il mistero Nora, ma anche dentro il mistero di un amore, quello di Joyce per Nora e quello tra Joyce e Nora. Un amore in cui Lacan ha visto realizzarsi quel rapporto sessuale di cui altrimenti ha negato l'esistenza. Angela Gesuino è psicologa, clinica e psychanalista. È stata presidente dell'Associazione Lacanienne Internationale ed è attualmente membro del suo bureau e del suo direttore. È l'autore di un bellissimo essai parato nel volume Il sapere che viene dai fous, un caso clinico a tratti extremamente poieti. È che s'è lungo penchata su Joyce e su Nora, con la finesse clinica che la distingue, è per cui noi siamo tornati in cui lei ha chiesto di trasportare il mistero Nora e anche il mistero di un amore, quello tra Joyce e Nora, in cui Lacan ha visto realizzare questo rapporto sessuale che non c'è l'esistenza. Prima di passare la parola a Enrico Terrinoni, desidero molto ringraziare Miriam Capaldo per la tela che ogni volta tesse attorno ai nostri eventi e che accompagna sempre con invenzioni molto raffinate, Michela Marino e Cristina Guarnieri per il loro prezioso lavoro ai fianchi, Iania Iercov e Lila Kumar per la loro sapienza linguistica e perché ci permettono di stare in questo spazio di studio di ricerca tra due lingue. Grazie ovviamente a tutti i presenti. Lascio quindi la parola ad Enrico Terrinoni e poi ci ritroveremo dopo per la discussione. Avant di passare la parola a Enrico Terrinoni io vorrei ringraziare Miriam Capaldo per la la parola a Enrico Terrinoni e la parola a la discussione. Grazie a tutti per essere qui, grazie per l'invito e devo fare un disclaimer iniziale, chiedere scusa perché non riuscirò a essere qui per tutta la mattinata perché alle undici e un quarto purtroppo c'è un funerale da cui devo andare. Allora, merci a tous d'être ici. Un petit preambule. Verso 11h je devrais malheureusement vous laisser parce que je dois assisté à des funeraires. Grazie mille. Allora, io vorrei dire qualcosa di molto schematico ma anche mettere dei punti fermi su una relazione quella tra Joyce e Nora di cui si è scritto tanto ma si sa poco. Allora, je vais sans doute parler de façon un peu schematique mais je voudrais ici mettre les points sur les i pour évoquer cette relation entre Joyce et Nora sur lesquelles beaucoup de choses ont été dites. E quindi vorrei iniziare ponendo domande, ponendo dubbi più che fornendo certezze perché sono convinto che allo stato dell'arte, gli studi biografici sulla figura di Nora lasciano molto, molti, molti più buchi di quanto invece rendano evidente e chiaro. Alors, tous les travails qui ont été faits sur Nora laissent beaucoup plus de zones obscures que qu'elle ne clarifie et c'est pourquoi je vais avancer ici en posant davantage de question et en exprimant mes doutes plutôt que je ne clarifierais. Et c'est pour cela que la documentation concernant le rapport de Joyce, James Joyce, Nora Barnacle, est disproportionatement plus importante pour la vie de James que pour les détails de la vie de Nora. Alors, tout cela est dû notamment au fait que toute la documentation qui est disponible sur Joyce et Nora Barnacle est évidemment disproportionate. Il y a beaucoup plus d'éléments concernant James Joyce qu'il y a d'éléments concernant Nora Barnacle. Et ce problème est un problème reale dans les étudiants sur les biographies, car les biographies des écrits du passé sont toujours en partie des histoires, sont toujours des décisions à partir de données, mais des décisions de finition. Alors, ceci est dû aussi au fait que le travail de construction biographique sur les auteurs et souvent un travail de, voilà, véritablement de construction qui a plus recours à la fiction qu'il n'est un travail réellement documentaire. Et ce est encore plus vrai quand nous nous avvissons à la biographie de la mère de Joyce, la biographie famose de Brenda Maddox, qui a gagné beaucoup de prix, qui est sûrement une belle lecture, qui a gagné beaucoup de prix, qui a gagné beaucoup de prix, qui a gagné de nouveaux données. Alors, cela est tout particulièrement vrai quand on traite de la biographie de la femme de Joyce, de Nora, par Brenda Maddox, qui en réalité ne rajoute pas énormément d'éléments par rapport à ce que l'on sait déjà. Quand uscì la biographie de Maddox, il y a deux types de recensione. La recensione popolare, quelles des journalistes, que disait que c'était finalement la histoire la histoire oscure de une femme de la mercedée, et puis la recensione des estudisants de Joyce, qui disontraient qu'elles ont déjà vu que ces choses ce nous connaissons. quando questa biografia è sortita il y a avuto due tipi di accueil che gli hanno stato fatto il y a avuto da un conto una réception che dirai populare quindi su questa femme che sarebbe una fama oubliata e il y a avuto l'accueil par gli altri più lettrati e ovviamente più al corso dei faici che hanno detto che non apporto pas grand chose ce n'est pas très nouveau tout ça. In seguito uscì un famoso film basato sulla biografia che però aveva avuto come consulenti degli studiosi di Joyce che corressero anche tante cose non sbagliate ma se vogliamo quasi inventate nella biografia in questo sforzo di raccontare una storia, perché le storie, come ripeto, sono sempre finzioni. allora a la suite di cui un film un film è sorti al quale hanno contribuito dei specialisti di Joyce che hanno molto studiato notamment Joyce ma come le diceva prima, a ogni volta che c'è una storia, c'è qualcosa che è raccontato, c'è di delle cose inventate che sono apportate. E questo è importante perché bisogna, quando si parla di una persona di cui c'è poco materiale biografico, reale, diretto, ma molto materiale indiretto, c'è bisogno di partire dai punti fermi, dalle certezze che sono, ripeto, molto poche. allora c'è importante perché, quando le source non sono forse diretti, bisogna partire da punti fermi, di certezze. E il primo materiale su cui possiamo basarci sono ovviamente le lettere, l'epistolario, ma l'epistolario di Joyce e Nora, come sapete benissimo, è estremamente esiguo per la mancanza di lettere di risposta di Nora e soprattutto per la scarsezza di contenuti della grandissima parte di lettere che noi possediamo. Allora, là, il primo materiale, ovviamente, di cui possiamo partire, sono le lettere, gli échanges epistolari tra Joyce e Nora. Ma due problemi se posano. Il primo, è il desequilibrio in questo materiale, perché noi non ne deteniamo le risposta di una parte, e d'altra parte, c'è molto po' di materiale, il materiale non è complesso, questo materiale non è in realtà. Non è una situazione strana, è normale che nei decenni dopo la morte di Joyce gli studiosi e la critica si siano interessati chiaramente allo scrittore e non alla compagna. è stato importante che la Brenda Maddox abbia prodotto una grande biografia di questa donna, ma dalla pubblicazione di quella biografia all'oggi, vivono in parallelo due versioni della donna, due versioni che sono quasi inconciliabili e di questo voglio parlare. Allora, il è molto importante che Brenda Maddox abbia pubblicato questa biografia molto ricche e importante su Nora, ma dopo il n'y'a pas grand'chosa in somma che è emergente e on vive su due versioni, celle di Maddox e poi un'altra di della vita di Nora e c'è di questo che voglio parlare oggi. La prima versione è quella che parte dalle rivelazioni di di Brenda Maddox ed è che Nora è sostanzialmente una vittima sacrificale, sacrificata sull'altare di un grande genio. La seconda versione è quella che tra Nora e Joyce c'era un amore immortale ed eterno con tutte le difficoltà che ogni coppia sperimenta giornalmente. ogni coppia è di lungo corso. La seconda versione è quella che tra Nora e Joyce c'era un amore immortale ed eterno che sembra in realtà all'amore tradizionale tra le couple. La prima versione punta tutto sul carattere, sulla forza del carattere di Nora, una ragazza ribelle, piena di voglia di libertà. Allora la prima versione si fonda su Nora e su sa forza del carattere, su il fatto che è una rebelle e che marca tutt'affè sa volontà. Questa versione spinge molto anche sul fatto che Nora non fosse per niente illetterata e ignorante come ci è stato descritto da altre fonti biografiche. Allora, questa versione esprime come Nora n'était pas l'illettera ignorante che d'autres sources biografiche hanno bien voulu descrivere. Infine, questa prima versione, che nasce appunto dopo la biografia di Nora, la dipinge come una donna molto avanti rispetto ai tempi, come una donna emancipata e del futuro, una proto-femminista. Di qui la tragedia, ovvero il fatto di aver incontrato un uomo che costringeva questo grande impeto di libertà ad essere, ripeto, sacrificato. E' una versione interessante, però complicata da tanti fattori che vorrò provare a ricomporre. Prima fra tutti, il fatto che se fosse stato così non si sarebbe fatto mettere i piedi in testa una donna del genere. Allora, questa versione mi sembra compliquata e renduta difficile da diversi punti. La seconda versione, quella diciamo più in voga fra chi studia Joyce, dice che Nora era la sua musa ispiratrice e che il loro rapporto era talmente simbiotico da non prevedere mai un dominatore e un dominato, ma sempre una simbiosi, come tutte le coppie che funzionano, una simbiosi che è complessa e che ha tanti fattori da scandagliare. Allora, la seconda versione che è più in voga è celle che è stata una muse e che tra loro avevano questo rapporto simbiotico, come nelle coppie che funzionano, con questa simbiose estremamente fluida e non non un dominante e un dominante, come abbiamo potuto descrivere. Secondo questa versione, Nora non si fa schiavizzare da Joyce, ma sceglie di seguirlo proprio per quel impeto di libertà, proprio perché vede in lui la possibilità di uscire da un recinto, che era quello irlandese, che le stava stretto. In questa seconda versione, Nora non si fa esclavagizzare da Joyce, è un piacere che si tratta di un piacere, è un piacere che si tratta di un piacere, è un piacere che si tratta di un piacere, e è quello di escire alla prisa irlandese. E secondo questa versione, questa versione spiega che Nora e Joyce, come tutte le coppie, litigano, lei lo schermisce, minaccia di lasciarlo, lo ama e lo odia, odia il suo bere continuo, ma lo protegge anche dopo la morte. Allora, per questa versione, Nora e Joyce sono dei disputi frequenti, Nora menace a plusieurs reprises di lo lasciare, di l'abandonare, ma in realtà, anche dopo la morte, lei continua di proteggere. Sono due versioni che non si conciliano. Di solito si sceglie la prima o la seconda. Un esempio, negli ultimi anni, è la grande scrittrice irlandese Edna O'Brien, che scrive di Joyce facendo molti errori, ma prendendo questa versione, questa versione di Brenda Maddox per buona. Quindi una donna sacrificata per un genio. Allora, queste due versioni sono assolutamente inconciliabili, on è d'un côté o di l'altro. Il n'y a qu'à voir la grande auteure irlandese Edna O'Brien, che ha scritto molto su Joyce, che ha scritto molto di errori, ma prendendo la versione di Brenda Maddox, di la versione di Nora, la femme sacrificata. Io sono convinto che la verità stia più o meno nel mezzo, ma che c'è da stare molto attenti sull'idea di una donna che si è fatta schiavizzare, come viene raccontato da Maddox. E lo dimostra alla fine della vita di Joyce e le ultime scelte che Nora fa durante le ultime ore di James Joyce. Per me, la verità stia un po' auteure, si è un po' auteure, si è un po' auteure. E penso che ci si è molto attenti sui rispetto alla versione che dice che Nora si è fatta esclavagisata. C'è qualcosa che on può voir, notamment, des mentis sur la fin de la vie de Joyce e sur les choix qu'Opère Nora dans cette fin de Joyce. Partiamo quindi dalla fine. Partiamo dalla morte che avviene il 13 gennaio del 1941 e da qualche ora prima della sua morte. Allora, noi partiamo dal giorno della morte di Joyce, il 13 janvier 1941, e rimontiamo a qualche ora prima che questa morte avviene. Nel pomeriggio del 12 dicembre, il 12 gennaio, Joyce si sveglia dal coma e chiede a Nora «Per favore rimani accanto a me finché non mi risveglio tutta la notte». Alors, dans l'après-midi du 12, Joyce se réveille d'une sorte de coma, d'un coma, e demande a Nora de rester près de lui, jusqu'à ce qu'il se renda, de rester le plus longtemps possible près de lui. Subito dopo, torna a stare in coma e si sveglia a luna delle notte del 13 di gennaio. Si sveglia, apre gli occhi e non trova nessuno e chiede all'infermiera «Dov'è Nora?». Allora, juste après, il retombe dans cet état comateux, se réveille à une heure du matin et quand il se réveille, il n'y a personne. Excusez-moi, il demande all'infermière «Où è Nora?». Nora era andata a casa con il figlio Giorgio perché i dottori le avevano detto «Si vada a riposare». Quindi ha fatto una scelta normalissima, giusta, ma una scelta che si riverbera nell'ultimo incubo di James Joyce, che morirà alle 2 e un quarto, senza nessuno vicino. Alors, Nora était rentrée chez elle avec son fils Giorgio, après que les médecins lui ont conseillé d'aller se reposer. Et ce choix qu'elle fait, qui est un choix parfaitement normal, qui est un choix parfaitement logique et habituel, se reflète du coup dans le dernier rêve de Joyce, qui donc se retrouve seule et va mourir à 2h et quart du matin. Quando, nei giorni successivi, si deve organizzare il funerale, escono delle informazioni sul luogo dove si terrà la cerimonia, sulla chiesa e sulla presenza di un prete? Alors, dans les jours qui suivent, il va y avoir les funerales et sortent des informations sur l'endroit où vont avoir lieu ces funerales et notamment sur la présence d'un prêtre. Quand Nora s'apprende cette communication, elle décide de blocquer tout et dit qu'il n'y a pas d'un prêtre dans cette cerimonie, elle ne peut jamais faire cette chose à James. Alors, quand Nora se rend compte de la circulation de ces communications, de ces informations, elle prend les choses en main et elle dit très clairement qu'il n'y aura pas de prêtre et qu'on ne peut pas faire cela à James. Questo è un esempio, uno dei tanti esempi, di contrasti, di coppia, di difficoltà. Da un lato, Nora non rispetta la richiesta di Joyce, dall'altro, lo protegge dopo la morte. Alors, cela reflète la position adverse, en tout cas dans le couple. Alors, certes, Nora ne respecte pas le vœu de Joyce, mais ce faisant, elle tente de le protéger. Alors, dans les années qui suivent, les dix ans qui restent à vivre à Nora, elle vivra dans une grande pauvreté. Et cela, sans doute aussi du fait que les amis qui étaient autour d'eux étaient davantage les amis de Joyce, évidemment, que ceux de Nora. Et dans ces années, elle sera costrette à vendre tanti manuscrits que Joyce avait composé esclusivamente pour elle, en une copie seule, en une seule copie. Alors, dans ces années-là, elle sera contrainte de vendre, notamment des manuscrits, des manuscrits qu'il avait rédigés vraiment à son intention, et donc elle doit vendre les choses qui lui tiennent le plus, qui lui sont les plus chères. Et ce sont les années dans lesquelles Nora abandonnera ce que Joyce avait de plus chère, c'est-à-dire sa fille, Lucia. Et elle n'est jamais allée voir Lucia dans ces années-là, dans les différentes institutions, les différents sanatoriums où elle a été enfermée ? Et donc, c'est une histoire complète, qui ne peut pas simplifier et ne peut jamais choisir une version ou l'autre. C'est de comprendre, appunto, la complécité de ce rapport. Alors, c'est une histoire évidemment complexe et c'est très difficile de choisir entre une version et l'autre. Et ce qu'il faut faire, c'est un petit peu tenter d'approcher cette complexité du couple qui a existé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nora a occupé l'esprit de Joyce à tout moment. Non, il n'y a pas eu de moment dans la vie de Joyce où elle n'est pas occupée son esprit. Non solo la vita, mais les opères. Les opères de Joyce sont costellate, di riferimenti segreti alla moglie. Alors, cette occupation mentale n'est pas seulement dans la vie de Joyce, mais elle est aussi à trouver dans ses œuvres qui sont constellées de références secrètes, en fait, à Nora. Nous sommes habitués à penser que Joyce utilisait Nora pour les sues inventions, comme, par exemple, le grand monologue de Molly, scritté dans un stile très simile à celui des lettres de Nora. Nous sommes habitués à penser que Joyce se servait dans son écriture de Nora, et, par exemple, dans le grand grand monologue de Molly, où on retrouve les accents de sa correspondance avec Nora. Mais à un niveau plus profond, quasi subliminale, on peut affirmer que tante des choses écrite par Joyce sont écrites par Nora, parce qu'elle peut lire les, mais, comme on sait, ne les l'est pas. Alors, on peut penser aussi que les choses qui sont écrites sont à un niveau totalement subliminal, et qu'elles sont écrites pour Nora, qui aurait dû les lire, mais dont on sait qu'elle ne lisait pas. Alors, deux exemples. Le premier est d'Alphinegan's Wake, d'un dernier œuvre de Joyce. Dans la première page de ce texte cosmique, nous avons un référent, il nom, il nom de Nora, all'interno d'un référent biblique. Alors, je ne citerai que deux exemples. Dans la première page de l'Alphinegan's Wake, de ce livre cosmique, Cosmos, il y a la citation du nom de Nora au côté, dans une référent biblique. In un'expressione molto griptica, che è questa, Nor a voice from afar. Nor a voice from afar. Ovvero, nessuna voce da lontano. Noi ritroviamo il nome di Nora. Nora voice vuol dire Nora Joyce. Alors, cette référence est la suivante. Nor a voice from afar. Donc, pas de voix depuis la distance, mais on entend donc le Nora Joyce. Nor a voice, Nora Joyce. Ma questo Nor a voice from afar è un riferimento a a voice from the fire, dell'Esodo, il momento in cui Dio parla a Mosè per dire libera Israele, portalo via dall'Egitto. Alors, ce Nor a voice from afar se réfère à Nor a voice from a fire, donc le feu, et c'est la référence à l'Exodo quand Dio s'adresse au peuple d'Israël pour qu'il parte d'Egitto. Quindi Joyce, sostanzialmente, sta ponendo Nora a livello divino e sta dicendo che è lei che può portarlo fuori, che può portare tutti fuori dalla cattività, dalla prigioniera. Alors, ce faisant, Joyce pose Nora la porte a un niveau divin exprimant que c'est elle qui peut dresser l'injonction de fuir la captivité, de partir de la prison irlandais. Il secondo esempio è ancora più lampante perché riguarda uno dei famosi amori di Nora a Galway, di Nora quando era giovane. Noi sappiamo che nel periodo precedente la sua partenza per Dublino la giovanissima Nora aveva avuto già diversi flirt. Noi sappiamo che in arrivare a Dublino Nora aveva già avuto di molti flirt. alcuni di questi ritornano nell'Ulisse come il capitano Molvey o il prete che la palpeggia. Ma c'è n'è un altro che è il più importante un ragazzo che morì per lei che si chiamava Michael Bodkin e che secondo la versione di Brenda Maddox non sappiamo più se è lui. Brenda Maddox su questo argomento un po' inventa un pochino. Allora il non è ancora più importante c'è un garzun che va morire che si chiama Michael Bodkin e al quale fa référence Brenda Maddox. La storia di Michael Bodkin è la storia che leggiamo in The Dead il racconto di Joyce talmente ambiguo fin nel titolo perché The Dead vuol dire sia i morti che i morti. Allora c'è una relazione che l'on voit trattata nel recit che si chiama The Dead il quale il titolo è extrêmement ambiguo perché il vuol dire le mort che le mort. Questo ragazzo morto per Nora Michael Bodkin le cui iniziali sono MB viene ricordato in maniera occulta dentro l'Ulisse nelle iniziali di Molly Bloom MB. è una storia segreta che nessun lettore poteva comprendere per cui dobbiamo ipotizzare che Joyce stava scrivendo questo libro la parte segreta di questo libro per la sua compagna. Allora c'è una storia secrata che non poteva chiaro essere comprise e c'è ce che ci permette di comprendere che tutta questa trame era destinata a Nora. E stava amando quello che lei aveva amato attraverso il tradimento. E a traver la trahison Joyce c'è era amare ce che Nora aveva amato lei e concluo questa parte dicendo che il finale dell'ultimo suo libro Finnegan's Wake è un ricordo di Nora e di quanto lui l'abbia fatta soffrire. Allora rappellerai a cet egard che il finale di Finnegan's Wake è un souvenir di Nora che rappel combien Joyce l'ha fatta soffrire. Sono messaggi ripeto segreti mandati solo a lei non sono per noi sono per la sua compagna che smentiscono in parte l'aversione di una donna che si è fatta in qualche modo schiavizzare da un grande genio. Ce sono dei messaggi secrets subliminori che per me diment il fatto e la version selon che Nora sarebbe esclavagis di piet che sono altri problemi che pone la famosa biografia di Nora riguardo una tendenza a la speculazione senza portare prove alcune. Il problema principale nasce dal fatto che nella biografia leggiamo che Nora va a Dublino lasciandosi indietro Galway, il paese dell'infanzia e dell'adolescenza. Il problema principale è che nella versione, per esempio, Nora va a Dublino e la laissando derrière elle Galway, che è il paese dell'enfance e dell'adolescenza. E quando va a Dublino, secondo le speculazioni della Maddox, potremmo anche immaginare che Nora fosse una quasi prostituta. E non esiste alcuna prova, alcuna lettera, alcun documento. che porta a pensare questa cosa. E non esiste alcuna lettera, alcun documento che possa lasciare immaginare questa cosa? Un altro problema che sorge è il fatto di rappresentare Nora come una persona molto legata alla religione cattolica al punto di essere forzata dal compagno a sradicarsi da questo mondo. Allora, un altro problema che emerge è quello che dice che Nora era estremamente liata alla religione cattolica al punto che il suo compagno le fa quittare questo mondo religioso. Perché sappiamo bene che non è così. Sappiamo perfettamente che il suo atteggiamento di sfida nei confronti della società era anche di sfida nei confronti della religione. E questo è un esempio di come le loro nature fossero molto simili e non distanti, come ci viene fatto credere. E questo dimostra a quel punto la loro natura, a Joyce e Nora, è stato molto più vicino di ciò che ci avevano pensato. E' un rapporto che ha alti e bassi il loro, ma è un rapporto che ha anche fratture, fratture profonde che sono poi, che preludono alla riconciliazione. Allora, nel loro couple, ovviamente, nelle loro relazioni, c'erano delle basse e anche delle fratture, ma vediamo come a ogni volta ci sono dei preludi a delle riconciliazioni. L'esempio principale è l'aborto spontaneo che Nora subisce nel 1908. Allora, l'esempio principale è l'aborto spontaneo che Nora subì nel 1908. Nell'Ulisse di Joyce, Molly Bloom partorisce un figlio che muore dopo qualche giorno. E quello è il momento in cui i rapporti sessuali completi fra Leopold Bloom e Molly cessano. Nella vita di Joyce e Nora, dopo l'aborto spontaneo, ci sono dei contrasti molto forti. che porteranno Joyce a tornare indietro sui passi e a sperare di tornare a vivere in Irlanda. E nel periodo che vivrà in Irlanda, da agosto fino a dicembre, gennaio, va due volte in Irlanda, quello è il periodo delle famose dirty letters, ovvero delle lettere oscene che si scambiavano a fini masturbatori. che nascono da un altro trauma, dal fatto che Joyce viene convinto dagli amici che Nora era stata con uno di loro prima di mettersi con lui. Allora, questo viene anche dal dubbio che è stato messo in sua mente a Joyce, che prima di che Nora sia con lui, lei è andata con uno dei miei amici. Ancora una volta, quindi, frattura e riconciliazione. Frattura, una difficoltà enorme fra loro, che poi viene compensata invece da questo rapporto a distanza, carnale ma a distanza. Allora, ancora una volta, queste fratture sono risolute in un rapprochamento e vediamo come queste difficoltà sono compensate e sono compensate sempre in un rapprochamento che si fa a distanza. Nei anni successivi a Trieste continua questo rapporto di traumi e riconciliazioni. I traumi sono principalmente dovuti all'atteggiamento di Joyce e alla sua passione per l'alcol e al suo frequentare prostitute. Si a Trieste, che poi a Parigi non si conosce, non si conosce, non si contano, sono tantissime le occasioni in cui Nora minaccia di andarsene via, di tornare in Irlanda e di lasciare Joyce da sola. Allora, in queste anni, tra Parigi e Trieste, c'è stato un gran numero di occasioni nelle quali Nora ha menacato Joyce di s'entraire, di partire e di tornare in Irlanda. La frattura finale, il contrasto finale, ma anche questo non definitivo, sarà quando Nora si mostrerà indifferente, se non fredda nei confronti di Lucia. Nora amava Lucia, ma capiva che Joyce l'amava di più e si instaura fra loro, fra madre e figlia, un rapporto di rivalità che arriva anche alla violenza. Alors, Nora, Nora aime Lucia, ma elle a compris que Joyce l'aimè Lucia encore plus qu'elle, e s'instaura alors ce rapport de rivalité entre elles deux. E negli ultimi anni di vita della famiglia Joyce, composta ormai da Joyce, Giorgio, il figlio di Giorgio, Steven e Nora, figlio e moglie si lamenteranno continuamente del fatto che Joyce sta sperperando tutti i soldi nella speranza di salvare sua figlia. Nora era spaventata da Lucia per alcuni eventi. per la sua tendenza alla piromania, ad esempio, oppure per averla attaccata scagliandole una sedia addosso durante la festa di compleanno di Joyce nel 34. Alors, Nora était effrayée par Lucia, par ses tendances piromanes, par le fait qu'elle l'avait attacchée aussi avec une chaise lors de l'anniversaire de Joyce en 34. Non sappiamo perché, ma dalle lettere sembra di capire che Nora credesse che Lucia la odiava. On ne sait pas très bien pourquoi, mais voilà, d'après les lettres qu'on a, on pense que, enfin, Nora pense que Lucia la détestait. Dopo la morte di Joyce, come ho detto, Nora non andrà mai a trovare la figlia e, quando morirà Nora nel 51, Lucia verrà spedita in Inghilterra, a Northampton, in un sanatorio, e l'andranno a trovare solo gli amici di Joyce, tra cui Samuel Beckett, che pagherà per le sue cure. Alors, après la mort de Nora en 51, ce sont les amis de Joyce qui vont aller voir Lucia. On l'a dit tout à l'heure, Nora n'est pas allée la voir, et elle est transférée à Lucia dans le sanatorium, dans l'institut de Northampton, et là ce sont les amis, donc, de Joyce qui viennent, notamment Samuel Beckett, qui paiera lui pour ces traitements. Et on ne sait pas, on ne saura sans doute jamais pourquoi Nora fait le choix d'abandonner ce qui était le plus cher pour son mari. Alors, je voudrais donc conclure en disant que nous avons beaucoup peu d'abandonnés, beaucoup peu d'abandonnés, mais nous savons que le rapport entre Nora et Joyce était un rapport de contrastes continués, mais de contrastes que n'étaient jamais definitifs, que portavano toujours à une simbiosité, à une unione d'animes et de corps. Alors, je voudrais conclure en disant que nous avons évidemment très peu d'informations, très peu de certitudes, mais que le rapport de Joyce et de Nora était fait de confrontations, de débats, de désaccords, mais que ce qui reste c'était entre eux une fusion quand même des esprits et des corps. Merci. Merci. Alors, je remercie Enrico Terrinoni pour ce double portrait de Nora. Alors, je commencerai par poser des questions, mais j'imagine que beaucoup vont intervenir. une première question, c'est que pour lui est plus facile de parler de la Nora de Joyce. Est-ce qu'on peut dire qui était la femme amée de Joyce, plutôt que dire qui était Nora. Oui, c'est exactement. Et c'est la principale critique qui a été fait. C'est la question que pose Christiana est la suivante, c'est qu'il apparaît que la Nora que l'on connaît, c'est davantage la Nora de Joyce. On la connaît comme la femme de Joyce, mais on a peu d'éléments sur Nora qui n'aura pris à part. Et c'est une première question. Et la seconde question que je voudrais poser à Enrico concerne le rôle que l'art et les corps, la sessualité, l'art, l'écriture, la sessualité, la sessualité, a son avis. Alors, je voudrais aussi poser la question du rôle que l'art, l'écriture, la sessualité, on peut avoir dans ce qui peut être caractérisé comme la symbiose entre ces deux personnes, cette symbiose des âmes et des corps. Merci. Pour la première question, la réponse est secque. Le problème principal de ce que nous savons de Nora est que nous ne savons beaucoup, si pas les news de réflexion que sont été véhiculées d'une biographie de Joyce ou racontées d'une personne 50 ans après, même plus de 50 ans après, pour la première question, je réponds de façon très brève que oui, ce qu'on sait, on le sait à travers les biographies qui ont été écrites sur Joyce ou par des gens qui ont parlé plus de 50 ans après les faits. Et molte, molte des fontes de la biographie sont fontes date per buone, date per buone, mais non vérifiées. Alors beaucoup des sources qu'on trouve dans les biographies sont données pour vrai, mais elles sont quand même sujettes à caution. La seconda domanda. L'arte, per Joyce, era tutto, ma era un arte carnale. la grande rivoluzion que Joyce opera est de mettre sur le même plan l'âme et le corps. Alors, pour la deuxième question, ce que je dirais c'est que l'art pour Joyce, c'était un art charnel, qui mettait sur le même plan l'âme et le corps. et c'est l'enseignement que lui a donné Nora, parce que Nora, qui n'était jamais nulle, nulle de ce que Joyce escreveva, viveva in totale, totale unione entre corps et animaux. non c'était une distinction pour elle, entre la socialité et l'être, qui c'est, mais c'était convaincée d'une sorte de... simpaticement, viveva dans cette commission. Alors, cet art charnel chez Joyce, c'est quelque chose qui lui vient de Nora et de la conception qu'elle avait de l'absence, voilà, de différence entre l'âme et le corps, c'est ce qu'elle vivait, elle, alors qu'elle n'avait pas accès à l'œuvre, et c'était de sa vie à elle et de sa façon d'établir cette équivalence entre l'âme et le corps que Joyce en est venu à sa conception artistique. Enrico, tu as dit que Joyce, j'ai letto de quelque part, insomma, que tu as dit que Joyce était quelqu'un qui n'avait pas une grande imagination et que ce qu'elle écrit était vraiment attente de la vie, de les choses qui lui avaient habitavano. Alors, Enrico, tu as écrit quelque part que Joyce n'avait pas une grande imagination et que ce qu'il écrivait lui venait de ses expériences quotidiennes de sa vie, de ce qui lui arrivait, de ce qui se passait dans son existence. Oui, c'est Joyce, c'était lui dans les lettres, il lui a dit beaucoup de fois, de ne avoir aucune créativité et aucune invention, mais de prendre tout d'expérience. c'est Joyce lui-même qui le disait, qui le dit dans ses lettres, d'ailleurs, qu'il n'avait aucune créativité, aucune imagination et que tout lui venait de l'expérience. Alors, forse, cette chose que Enrico nous offre, c'est d'une art carnale de Joyce, c'est d'une art, une écriture, une langue dans laquelle passe quelque chose dans le corps. Peut-être, Lilla. Alors, tout ce que nous dit Enrico sur cet art charnel où l'art, voilà, lui vient... La langue, aussi. la langue, voilà, lui vient notamment de son expérience charnel, de son expérience du corps et de son expérience. C'est-à-dire que cette carnalité de l'art et de la lingua est probablement quelque chose qu'on peut interroger beaucoup, non? On peut interroger beaucoup, ce point, je crois. Je voudrais sentir aussi les autres sur ce sujet. Cet art charnel c'est quelque chose... Cet art charnel, cet art incarné, cette langue, cette langue charnel, c'est quelque chose qui peut nous interroger, non? Je voudrais bien avoir l'avis de tout le monde sur cette question. C'est-à-dire ? 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 fatta come dire manifestata in lui in altra modalità però era la questione di questa capacità di uno scrittore di eh cogliere eh le risonanze di un'iscrizione originaria della lingua sul corpo Lila No mi fa lo devi fare tu Yance di sicuro Lila ti ha persa eh sì mi dispiace allora ciò che dice tutto brevemente c'è che a proposo della carnalità della lingua carnalità o charnalità non so come si dice carnalità carnalità allora c'è che ho avuto l'occasione di m'occuper di la question dei scrivani che scrivano in un'altra lingua che la lingua maternale e ho avuto un scrivano argentino che vive in Italia che ha fatto e che ha fatto e che ha fatto ma non all'inizio al principio di la carriera a scrivere in italiano e io l'ho interviewa per cercare di capire quel était son rapport a la lingua da questo punto di vista e ciò che mi ha frappato che lui che è un scrivante apparemment molto esplodente della carnalità per esempio exprimata per Joyce è che il aveva in quanto scrivante a mio avviso la capacità di come dire di evocare di rejoindre di se relire alla question della lingua c'è dire questa prima impression della lingua con le marco di gioia sull'occhio senza che apparemment su scrittura parla di questo perché è molto delicato molto léger molto non so cosa ma c'était evidente in son interview allora c'était la question che je posais a Enrico Terrinoni quindi la questione della carnalità credo che non riguardi necessariamente il sesso così come è stato come dire infuso nella scrittura di Joyce volevo ecco chiedergli chiedere a Enrico Terrinoni quest'altra questione cioè siccome lei ha posto il problema della di questa difficoltà a ricostruire Nora di per sé e ha anche detto che Nora occupava la vita di Joyce in ogni momento per cui lo dimostrano le allusioni segrete nella sua scrittura eccetera allora sulle allusioni segrete mi sembra che questo sia un capitolo enorme perché in tanti di quelli che hanno conosciuto Joyce hanno creduto di ritrovare allusioni a fatti che le riguardavano in questa scrittura quindi credo che sia un discorso più più vasto ma mi domando in generale se non potendo avere dati certi documentari su Nora se non sia difficile parlare cercare di ricostruire chi fosse Nora in realtà senza parlare di Lucia perché il rapporto di Joyce con Lucia noi abbiamo avuto recentemente una giornata di studi dedicata a questo per questo diciamo ho letto qualcosa era un un rapporto come potremmo dire saturante cioè Lucia ma anche Giorgio forse noi sappiamo qualcosa di più di Lucia non potevano stare senza il padre erano completamente isolati dal contesto in cui vivevano il padre stava sempre sopra questa figlia allora questa era una modalità che non non riguardava solo la moglie era il modo evidentemente di amare ma vorrei dire di poter vivere di Joyce e vorrei sapere che cosa ne pensi allora Yance c'è un problema Enrico Terrinoni mi sta comunicando che deve andare via Enrico sì io ho cinque minuti poi devo scappare devo stare dall'altra parte adesso c'è queste domande che ti ha fatto Yance io non so se Angela Gesuino vuole a sua volta far più una domanda e poi chiudiamo domandiamo ad Angela allora chiudiamo e poi chiudiamo le domande e se tu hai voglia ci rispondi e poi ci salutiamo non ho veramente una domanda non c'è che detto Enrico Terrinoni sulla necessità di diffidare della ricostruzione della Maddox sì anche se io ho utilizzato la biografia della Maddox anch'io non condivido l'idea di una Nora sacrificale ma anzi tutto il contrario ecco io naturalmente il mio tentativo è quello di fare il ritratto della moglie di Joyce non certo di Nora in sé e grazie a lui per ciò che ci ha detto questa mattina Enrico puoi dire qualcosa di risposta i ance o devi proprio scappare per tre minuti mi stanno aspettando mi devono portare dall'altra parte però posso dire due cose magari poi le traducete io di Norma non parlo mai di Lucia Joyce perché la questione Lucia è ancora è ancora meno certa di quella di quella di Nora perché su Lucia abbiamo tantissimo di scritto tantissimo ma grandissima parte è speculazione pura speculazione abbiamo solo pochi punti fermi non sappiamo neanche non sappiamo i momenti in cui Lucia scappa da Joyce e va in Irlanda non sappiamo niente sappiamo nulla sappiamo solo qualche conosciamo qualche dettaglio ma quasi niente che ogni volta che c'è un buco biografico gli scrittori i biografi si tuffano in questo creano molte storie a chaque fois qu'il y a un trou biographique gli autori s'enguffano e inventano ce che vogliono quindi la polemica chi étudia i text di Joyce e non ho certitudine quindi non posso partagere su questi elementi dovete scusare davvero io sono mi dispiace moltissimo spero di se registrate me lo mandate spero di di vederlo senz'altro Enrico ti ringraziamo comunque moltissimo per averci concesso il tuo tempo e ti faremo avere senz'altro la registrazione d'accordo grazie mille ciao ciao allora eh beh non c'è modo di discutere quest'ultima affermazione con Enrico Terrinoni ma è evidente che anche lui in realtà ha detto delle cose su Lucia e le cose che ha detto su Lucia è che dopo la morte di Joyce è rimasta completamente sola ad esempio e questo non è una realtà e comunque abbiamo spezzoni eh di eh testimonianze spezzoni facciamo tradurre facciamo tradurre Lila allora eh non poter discutere eh ce che ce che Enrico viene di 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 lui ma è ma è ma è ha e certe affirmazione su Lucia notamment il fatto che è va restare alla fine di sua vita completamente selle. Dopo la morte di suo padre, lei va restare completamente selle. Quando lei si va, quando lei è enfermata, lei va restare completamente selle. E lui ha detto anche con una certa sicurezza che c'era un rapport di rivalità di Nora nei riguardi di Lucia. E ciò che ci ha detto anche con una certa sicurezza è che c'è un rapport di rivalità di Nora a Lucia. Quindi in fondo è vero, comunque disponiamo di qualcosa. Iance, tu che stavi aggiungendo? Stavo dicendo che appunto fermo restando che quello che dice lui è assolutamente così, però spezzoni proprio di parole riportate di Lucia da vari testimoni li abbiamo. Anche la lettera che Darman ha commentato per noi. Quella è una lettera di Lucia. Anche la lettera di Lucia. Noi abbiamo dei brives di ciò che l'ha potuto la sentire. Anche la lettera di Darmont anche la lettera di Darmont anche la lettera di Darmont di Darmont di Darmont di Darmont fino a 11.30 questione di Lucia perché potremmo riparlare in maniera diversa della questione della rivalità madre figlia. Io volevo solo dire una cosa che questo mi ha colpito tantissimo questo fatto che lui scrivesse dei messaggi criptici segreti dentro le sue opere indirizzate a lei destinati a lei che non li leggeva quindi mi chiedo se questo ha a che fare con la frase di Lacan della lettera che giunge sempre a destinazione. Sono lettere che non raggiungono assolutamente il destinatario però forse raggiungono una destinazione. Allora Cristina ha detto che 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 ha detto questa storia di messaggi in tutto caso di scritti che si ritrovano che si ritrovano in l'ovo di Joyce a destinazione di Nora d'autant più che non li liate e non si domanda come sella ne rejoint non rejoint non rejoint non rejoint ce che dice Joyce a propos delle lettere che arriva toujours a loro destinataire in l'occurrence a loro destinataire la lettre arriva a destinazione non 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 e quale sarebbe qui la destinazione la destinazione forse è l'arte no anche forse rispetto a questa carnalità dello scrivere è una forma di possesso sessuale cioè comunque scrivere che sta intervenendo qualcuno vuole intervenire un microfono aperto ok e dunque par rapport a a ce côté charnel dell'écriture est-ce che ce n'est pas une façon de possedere attraver l'écriture de possedere de façon charnelle attraver l'écriture d'accordo allora se nessuno più vuole intervenire ci vediamo tra cinque minuti con Angela Gesuino d'accordo a